Muare! Oh, volo! Eh, cos'è? Non volare, signor! Mi è arrivato un coccodrillo quassù! Eh, sp... Eh! Mi è arrivato un coccodrillo quassù! È morto! E sta prendendo il sol, signor! Questa volta abbiamo messo dei cannoni, ci avvicineremo allo stronzone e glieli spariremo sulle gengive. Hola todos! Hola todos, fa così proprio a caso. Hola todos! Sei carvissita! Espinosa è introdotto nel personaggio. Oddio! Oddio! Cosa sei diventato? Questa finisce in video. Scusatemi todos! Sei emozionata, muy emozionata! Non dire imbarassata che vuol dire incinta, eh, in spagnolo. Che sa mai che pensano a cose strane. Beh, se qualcuno mi ha messo incinta, che vuoi che sia? Non lo so, c'erano tanti cannoni, magari è stato uno dei dinosauri laggiù. Ti ho visto che grufolavi con i t-rex l'altro giorno. Io non grufolo! Io spagnoleggio! Io spagnoleggio, ah, mi perdoni, beh sì, con quelle tette... No, basta! Sta scendendo sulle cose proprio schifose. Me ne vado, guarda. Do-donde sta, signor? Eccolo là, eccolo là! Lo vedo che si sta tipo ingroppando le rocce. Alla nostra destra. Non ti girare di colpo che volo di sotto, Carmen. Sì, dita un po' di pazienza. Adesso lo tiriamo verso di noi. Tengo che manovrar... Sì, l'uccello, vai a controllare, tocca all'uccello, come piace, madonna santa, ste donne. E l'uccello, signor? No! Tengo che manovrar l'uccello. Però questo è meglio non sottotitolarla, eh. Tengo problemi ormonali, signor. Non ce ne eravamo accorti, guarda, non ce ne eravamo accorti. Veloce, veloce. Veloce, signor, vamos! Ok, orto o cane. Spara, Carmencita, spara che lo stai attirando, più o meno. Lo stai attirando, titanusauro, signor. Sì, ma stai calma, che sei in quel periodo del secolo. Buono, 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 se riesci a bloccare... Noda di lì, noda di lì. Dios mio, Dios mio! Stai calma! Ma, Carmencita, sei lì? Muere! Ok, muere! Ok, 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 vado io, vado io, vado io, tranquilla. Non farlo muovere. Matalo, matalo, signor. Ma che matalo? Stai buona! Matalo, ora! Matalo! Ma che matalo? Ma no, matalo! Lo dobbiamo catturare! Oh, sto cavalcando il titanusauro, signor. È il mio amico. Ma che tuo amico... Carmencita, sta lontano dal signore che si incazza a bestia. Madonna, quanto è grosso. Stai cavalcando il titanusauro. Mirame, mirame! Non fa... Mirame, signor! Wow, sono sopra il titanusauro! Ok, per un secondo, la paura. Sono in punta. No, in punta, no, quello è ambiguo, eh. Sono in punta, signor! Carmencita, sei ancora... Dove? Ti devi salire sull'uccello. Ah, sei già a bordo del... Cavalcame, signor! Cavalcame! No, non era quello che intendevo. Aspetta, aspetta... No, un po' più bassina, un po' più bassina, un po' più bassina! Me deposito, signor! Me deposito! No, aspetta, l'ho mancato tantissimo. Donde stai? Dove minchia sei? Sto guardando il nuovo uevo! Che uevo, che uovo! Signor Rocco! Oh! Oh! Rocco mi fai le uevo? Ah, sì che Rocco è femmina. Buongiollo. Lo prendo io che dopo ci si fa la frittatina. Abbiamo visto uno da quelle parti lì, quindi ci divertiremo a farci inseguire sparandogli con il cannone sulle gengive. Bravero Carmencita? Vamos! Vamos a coparlo, signor! Vamos a coparlo? Ma come? C'è l'uccello che è un po' storto, Carmencita. Se me lo raddrizza cortesemente. Bello dritto, lo voglio. Sto in muy bagada, signor! Muy bagada. Cambiamento sormonale, signor. Cambiamento sormonale. Ebbene, sì, è un problema noto dello spagnolo moderno. Vamos! Vamos! Sì, ma con quanto... Scusate, ogni tanto c'è cambiamenti ormonali che mi fanno tanta, tanta paura. Non si preoccupa, signor. Ok. Questi sono un attimino più preoccupanti. Ed ecco. Sì, signor. Pia solo là. Oh, sì. Succa non sono... Carmencita, quel problema ormonale si sta un attimino aggravando, eh. Ma vabbè. Non si preoccupa. Stai prendendo Sampillolas. Coppamolo, signor! Ok, adesso vengo giù. Coppamolo! Non si dice coppamolo, ma vabbè, non importa. Cioè, Carmencita, Carmencita piano che volo di sotto. Con calma. No, 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 signor. Un po' di laghi qua sopra. Ok. Signor. Placa, placa la magina, l'ormone. Un attimino che arrivo di sotto. Mi stai placando tutta. Mi placche. Por favor. Signor, matalo. Matai se ti darcoso. Non voglio dire con quella voce, aspetta un secondo. Matamelo tutto. Ho tanta paura se mi parli con quella voce. Esparalo! Esparalo, signor! Ma cosa? Sto puntando il culo. Cosa gli sparo? Es mi cuino. Es tornato. Signor, sparalo. Oh, c'è la doppia personalità. Non me l'aspettavo. La tengo dopo la personalità. Es mio cuino. Non posso mirare stavolta. Quindi... Es tornato fra Mexico. Ok, un po' più alto, un po' più alto, Carmencita. Ma è il culo questo. Vamos. Spara, spara il culo. Spara il culo. Aspetta, aspetta. Le insulta mia famiglia. Signor. Es... Uomo blanco, muy brutto e cattivo. E' malo. No, 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 no. Non ci facciamo cosa c'è dietro le cascate dopo, Carmencita. Adesso catturiamo il signore che siamo qui da 25 ore, penso, ormai. Però tengo la miscosa. Avrai le tue cose, ma... Lo puedo hacer. Che schifo. No, che schifo. Che schifo. Signora. No, è lì che si ingroppa le rocce, lui. Questo è muy bagnado. Eh, no, no, non ingroppa in quel senso, Gisualda. Eh, Gisualda, Carmencita. Cosa? Che ha? Che ha? Che dice? Sento che si muove, sento che si muove, ma non lo vedo. Che sta muovendo? Es il mio intestino, signor! No, es il titanosauro. No, 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 non si cachi tutto, anche perché lei abbia pazienza. Seguimi, Cristoforo Colombo. Non si chiama Cristoforo. Si chiama Mario. Da quando? Mi hermano este aquí. Hola. Come? Soy el hermano de Carmencita. No, ma scusa, ma perché ogni volta che tu guidi in direzione del coso ci ritroviamo sempre a guardargli il culo? Carmencita no es muy buena a guidar el polo. Grande polo, grande uscelo. E gira, lui, e gira. Mi spiace, signor. E sto ancora imbarando. E sto guidando, Luceno. E mi sto glicciando col canon, zio Billy. Porca boia de The Ark. Vamos. Ok, Carmencita, è il prossimo e abbiamo lo stronzone. È fatta quasi. Sì, sei pronta. Stronzo, mi attacchi. Vamos, Carmencita. E vai in direzione. Il simpatico signor Blanco. Quante borzone ci sono dentro di te, Carmencita? No, non in quel senso. Hola. Hola. Perché domando le cose io? Vamos a matar con esta mirabia e ca. Vamos a matar. Ai, ai, ai. No, non dia colpa alla mia mira. È difficile con un cazzo di cannone stando di lato, lo giuro. Cioè, veramente, da quando c'è il titano d'oro in giro, il bronto ti sembra tanto piccino e tascabile, che è una cosa incredibile. È il mio pene, signor? È il mio pene, signor? No, no, non ne voglio parlare. Cosa pensa il mio pene? E mi fa male il buco del culo dall'altra volta. Come? Cosa fai tu al bar? Oltre a prendere i pochi? No, 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 no me prenda in giro così, signor. In giro. È sì, mille giro, dai. È sì, ma che po... È imbarazzata vuol dire incinta, in spagnolo. Non me frega un cazzo, signor. Già in questa l'ha partorito l'uovo, sì, ha cagato l'uovo qui. Sei con me. È un testicolo de rocco quello, non è un uovo. Un testicolo. E adesso ci va ovviamente dentro i boschi. Mi comincio a rompere le palle, eh. Ma poi proprio un attimino, guarda. Questi alberi stanno cadendo, signor. È molto ciccione. No, no, anche le mie palle stanno cadendo, Carmencite. È quello il problema, non solo gli alberi. Perché sono ciccione, stupalas? Eh, non mi lamento, non mi lamento. Non vedo niente. No, non vedo niente, non vedo niente. Sono le frasche. Sono le frasche dovunque. Sono pieno di vivi e di dulcello. Ma dai, ma dai. No, no, siamo vivi. Non svoltare. Non testa di cazzo svolta. Ha messo la freccia, signor. Ah, allora sì, va bene. Se becco chi ha programmato il tetanosauro, ma do. Ma do le botte che non gli do. L'ho programmato io. Mi frateo. Mi romano. Vai su, più alto, più alto. Più alto, più al Dio Bono. È molto spagnolo, Dio Bono. Matalo! Più alto, più alto. Matalo! Non è bastato. Cado? Sì! 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 Vamos, signore! Sì! Atterra, atterra! Fanculo! È nostro! È nostro! È nostro, è nostro, è nostro, è nostro! Vamos, vamos! Fanculo al Dilo Fosauro. Me ne fotte sega. Peso troppo! Fotte sega tra gli miei ste palle di merda dei coglioni e via l'uovo. È molto maestoso, signore. Non me ne frega un cazzo. Gli ho uccido anch'io, guarda. Hola, sono Pablo, sono tornato. Che ha... Che ha pensato? La nostra tomba! Preso! Allò? Preso il titanosaio! Sì! Oh, e vai! 25 cazzo di ore! Che... Che nome, signore? Oh, sto cavalcando! No! Sto cavalcando, signore! Mori malo! Signore? Sì, dica! Oi, oi! Che succede? È fuori controllo, signore! E cosa stai facendo là, tu? Ah, il sol è calduto! Noi! Oi, oi! Oi, no! Ah! Tima, ora calma! C'ho anche l'ucero! Sei muerto! Lo chiamerò... Grande Puffo! Grande Puffo? Eh, certo, guardi. Il colore non ci azzecca tanto. Grande Puffo. Ah, Puffo proprio, giustamente, in spagnolo. Puffo! Funziona molto bene il Grande Puffo, eh. Il piccolo Grande Puffo. Ora sei termenzita! Ma basta con queste possessioni demoniache! Mmm! Me gusta, stu! Oh, oh, oh! Aspetta, signore! Necrofilia! Come necrofilia? Così all'improvviso? Ma che schifo! Ma no, ma non abusare del povero Brontosauro! Su casa sta volando via, signore! E sta combattendo! Ma perché la mia casa si fa sempre via? Ma che palle! Vamos a buscarlo! A buscarlo? Ah, è vero, devi buscarlo, giusto? Vamos a buscar tu uccello, o no? Ok, andiamo a riprenderci il mio uccello, porco cane. Però c'ho la paura, eh! Vamos a buscar tu casa, signore! Eccola laggiù, la vedo, la vedo, madonna santa! Ah, wow! È morta un sacco di gente laggiù! Non si preoccupi, signore! Tenemo garanzia, signore! Ah, tutto in garanzia, va bene, allora. Aspetta che cerco di riprenderla a mia casa. Soi Pablo! Adesso si, Pablo, ma... Ho problemi a tener conto di tutte le persone che ci sono in questo momento. Hola! Sei Emanuele! Chi è Emanuele adesso? Emanuele! Ok, basta. E io sono qua su... Soi un pannello solare, signor! È vero, effettivamente è un gigantesco pannello solare. Vamos a matar con este titanosauro. Vamos a matar... Ok, io e Carmencita abbiamo avuto un'idea pazza, anzi, l'idea pazza è di Carmencita, ma vabbè. Vogliamo far fuori l'altro stronzone di titanosauro laggiù, perché a quanto pare non siamo abbastanza deficienti. Carmencita, te la guida, mi raccomando. Eh, stai seguendo, il bastardo. E stai cucciando su coda, signor. Su coda è molto succosa. E peligrosa. E scagliosa. Signor, è un problema grafico. E sto leccando su colo. Uuuui! Uuuui! È un problema! È un problema! Ma lo stai attaccando? No, no, sto io. Che succede? Non capisco. Per quando? Eh, vabbè. Tengo Parkinson, signora. Vamos a ingroppar el titanosauro. Ah, è vero, siamo maschi. Non so se questo è femmina. Aspetta il controllo se è femmina, eh. No, no, è maschio. Ci va male. Vamos a ingroppar el titanosauro. È sempre amore, è sempre amore. Non puoi attaccare, non puoi attaccare. Hai finito la stamina di nuovo? Ti do un po' di viagra? Oh, oh, il signore sta venendo a inculare noi. Ci stiamo diventando i ruoli. No, eh. Chiedo ingroppare, non essere ingroppato. Arriva un'onda anomala. Uuare! Oh, volo! Eh? Cos'è? Non volare, signore. Mi è arrivato un coccodrillo qua su. Mi è arrivato un coccodrillo qua su. È morto. E sta prendendo il sol, signore. E sta prendendo il sol. Vabbè, io prendo un po' di carne intanto. E' profitto. Spalma la crema, signore. E il coccodrillo se ne va. Ciao, ciao. Ah no, vola. Il coccodrillo direttamente vola. Il coccodrillo sta volando. È su un overcraft. E dei messicani siano con me. Muere! Por lo dios messicanos. Por lo smaias. È il 2012. Mi sta stossicando con su coda. Ok, lo stiamo attaccando da, credo, ormai 20 minuti. È stata una battaglia infinita. Ormai dovrebbe mancargli pochissimo. Matamolo! Ok. Wow. Uhuhu! È morto? Sì, signore. Pienso. Vai, che altro colpo sia andato. Muere! Morto! Morto! Porco cazzo. Porca puttana. Vamos, signore. Dove vai? Scala le montagne, sto coso. Sto creando il gran sasso, signore. È il gran sasso. Vai, vai. Vieni, vieni, che sicuro. Fidati, Carmencita. È molto instabile. È molto instabile. Tengo il piccante dell'ongamare. No, non in quel... Dopo, Carmencita. Dopo, dopo, che sto facendo l'outro. E come riuscire a far uscire un titanotauro? Se Gesù vorrà, io riuscirò a fare questo salto. EGNE! Gesù! 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 Cos'è successo? Carmencita? Sei bugata. No, non sei bugata. No, sono le tette grandi. Ah, la famosa... Allora, aspetta. Ti sbaglio io? No! No, signore! No, è scarico! No, c'è con paura! C'è con paura! Il fucile per spagare. Hai visto? Il fucile per spagare. Ti avrei mai sparato Carmencita? Avanti un po' di fiducia. Oh, ma c'è una scimmietta! Oh, ma c'è una scimmietta! Ma guarda che... Ma è rimasta! Ah, che... 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 Carmencita? Mi sa che sei allergico alle scimmie. Giusto un attimino. Ahahahah! Ahahah! Oh, ma c'è una scimmietta!